Abbiamo trasmesso il messaggio del Presidente Pertini. Molte persone ci hanno scritto, ci stanno scrivendo, vi ringraziamo tantissimo, ringraziandoci perché quelle persone soprattutto che hanno vissuto in quel periodo sanno di che cosa stavamo parlando. Cioè di presidenti, di punti di riferimento che per noi erano importanti, sapevamo che difendevano i nostri interessi. C'era anche la parte comica, perché noi all'epoca ci lamentavamo anche di questo fatto. C'erano le guerre, c'era il Vietnam, c'erano storie bruttissime che avevamo già passato, avevamo già vissuto. Gli orrori della guerra a noi ce li avevano raccontati, ma avevamo anche vissuto qualcosa quando eravamo molto più giovani. E avevamo visto che comunque la guerra era un orrore a prescindere. Ecco perché quelle parole del Presidente, ed ecco perché la comicità anche in quel periodo, si era indirizzata in modo molto fine alla questione che forse in certi posti dell'Occidente, guarda caso nei nostri colonizzatori, essere guerra a fondai faceva parte del loro DNA. Per tutta una serie di motivi che non abbiamo tempo di spiegare, ma forse probabilmente la nostra grande cultura, la cultura di Michelangelo, la cultura del Caravaggio, la cultura dei grandi artisti del passato e degli scienziati, di Galileo, eccetera, 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 forse era sopraffatta da chi, per il fatto di averci salvato, vuole imporre una cultura diversa o addirittura cancellare la nostra. E allora forse non sono stati comprese molto bene anche alcune finezze comiche, ma di grande intelligenza artistica, come quella che stiamo per vedere, che già abbiamo trasmesso e ritrasmettiamo con grande piacere, proprio a proposito della guerra e di alcuni paesi che sono un po' guerrafondai, parliamoci chiaro, magari per interessi, certo, anche economici, ma magari perché ce l'hanno dentro, perché gli piace e ce lo vorrebbero far piacere anche a noi. Massimo Troisi. Sì, ma come va il cinema americano? Il cinema americano come va? Pippo, il cinema americano, non so se il capo si parlava, perché il cinema americano sta un po' in crisi, perché loro, e per che modo si spieghia, perché sono venuto a capo, no? Eh, fammi parlare, Pippo. Perché loro hanno finito tutte le guerre, capito o no? Come tutte le guerre? E non possono raccontare più le guerre, perché io qua ho scoperto che il governo americano aiuta il cinema, ma non come in Italia che danno i soldi in sovvenzione, no? Perché tu hai i soldi a uno e poi chi non dà l'idea, che se ne fa? Invece qua danno le idee. Gli dano furbi. Se vuoi fare i film, noi vorremmo le idee. Cioè facciamo le guerre. E infatti hanno fatto i film sugli indiani, la guerra di secessione, via col vento, la Corea, i giapponesi, i barchi in Normandia, o Vietnam e ormai non devono più le guerre, capito o no? Loro, gli americani, io pensavo che erano cattivi. Quando sei in Italia, mi chiedono, ma chi si fanno le guerre? No, loro fanno le guerre per fare i film, mica perché se non portano la guerra. Ho capito. Perché dalla guerra fanno i film e spingono il cinema, capito o no? Eh certo, ma sono finite. Ma non devono più le guerre. Infatti, infatti, nientimeno, fanno i film sulle guerre che ancora hanno fatto. Guerra Stellare, Star Trek, qua non c'è stanno queste guerre. Però loro fanno finta che già ci sanno per fare i film, capito? Ho capito. E poi, capito, quale ho fatto. Loro ci hanno qua Reagan. Eh. E' una Reagan che è un ex attore. Allora, spinge il cinema, l'aiuta. Hai capito o no? Allora, questo cercherà delle idee per fare i film, cercherà di fare guerra con tutto quanto. Vira o no? Parlo cattivo, invece ho fatto il cinema. Infatti, vai in gira e dici, ma perché non facete una guerra contro l'America? Ma è giusto a due quei ministri, a Iran. Ma facete una guerra contro noi? Ma noi non abbiamo le armi. Non fa niente, ve le vendiamo noi, ai strega. Ve le vendiamo noi, basta, che ci facete una guerra, se noi c'è, ma c'è, si crolla. No, ragazzi, vi giuro, Massimo Troisi. Posso aggiungere una cosa velocissima? Sì, dai, veloce. Voi non sapete, o forse ve l'ho detto una volta, che c'è un canyon negli Stati Uniti che si chiama Laurel Canyon, nei sotterranei, cioè sotto questo canyon, avevano costruito, ci sono ancora degli studi di non so credo 110.000 metri quadrati, in cui hanno realizzato una Hollywood sotterranea che ha prodotto migliaia e migliaia di film, che poi sono stati utilizzati per diffondere la propaganda. Bisogna leggere un libro che si chiama I segreti di Laurel Canyon. Vanni, per chiudere, allora, Massimo Troisi monumentale, direi, perché, ma questa finezza, tu pensi che tanta gente l'abbia capita? Ma all'epoca probabilmente sì, comunque anche questo, no, è uno squarcio di un mondo che non esiste più, un mondo dove anche, tra l'altro si poteva fare commedia, usare l'ironia e in qualche maniera in realtà mandare dei messaggi un pochettino diversi, ma ormai siamo arrivati invece in un momento in cui non si può scherzare su nulla se non quello che è in qualche maniera politicamente corretto. A parte che c'è veramente poco da scherzare visto i tempi che stiamo vivendo in qualche maniera. Però le guerre, forse non l'ha visto dopo quello che è successo, visto che hanno continuato a farle per lungo tempo e ancora stanno continuando a farle. Mi chiedo per quanto tempo l'Italia debba rimanere, va bene abbiamo perso una guerra ma tra un po' è passato un secolo se no aspettiamo ancora che i francesi ci chiedano i danni per i vercingetori, non lo so. Sì è vero. Guarda poi tra l'altro stavo leggendo i messaggi, c'è una coincidenza bellissima perché vedo che Sergio aveva parlato prima ancora che noi mandassimo questo filmato di questa gag di Massimo Truisi quando era a New York sugli americani che fanno le guerre per aiutare il cinema. Vedete che c'è sintonia fra noi e il nostro pubblico, i nostri ascoltatori. Questo è molto bello. Concludo soltanto dicendo e ci salutiamo soltanto rispondendo come al solito alle decine, centinaia ma direi migliaia se contiamo tutte quelle che ci arrivano in settimana parliamo di migliaia di persone che ci chiedono sempre di Alessandro e del nostro Alessandro Meluzzi. Allora io ripeto quello che ho già detto la scorsa settimana l'altra ancora eccetera eccetera. Allora noi sappiamo che Alessandro sta prima lottava per la vita adesso lotta per tornare ad essere ad essere tra di noi presente e in forma. Il percorso è lungo Vanni lo ha spiegato bene qualche giorno fa qui alla radio è un percorso lungo diciamo il guaio che è l'incidente chiamiamolo così che ha subito questa emorragia è stata una cosa importante devastante ma che gli ha salvato la vita comunque in qualche modo la vita gli è stata ridonata e quindi noi di questo siamo estremamente felici il percorso però è lungo Vanni lo ha già spiegato magari un'altra volta lo rifarà ancora è un percorso lungo e noi dobbiamo aspettare pregare per chi crede pregare pregare molto per il nostro amico Alessandro e dire di nuovo se magari lui in qualche modo riesce ad ascoltarci sbrigati perché abbiamo bisogno di te sbrigati Alessandro a tornare perché abbiamo bisogno di te e quindi credo che tutti stringendoci intorno a lui nella preghiera per chi crede o comunque nel pensiero per gli altri io credo e spero di poter riaverlo qui con noi prima possibile non abbiamo ovviamente una data la natura ce lo dirà però noi preghiamo per lui e sappiamo che comunque che comunque e speriamo che prima o poi tornerà